allora vorremmo farvi un regalo bellissimo una canzone che non suoniamo più credo dall'ottantatré credo che non si suona più proprio ma neanche non abbiamo fatto neanche la prova oggi come viene vai è un anelli del piatto a forma di nastro che si insedia nel corpo dell'uomo ha la testa munita di quattro vettose e per giove è un vero parassita bulimia anemia grave inappetenza sono prove della sua presenza ma di testa vertigine ipocondria porca troia non è ancora andata via mangiaringhe marinate aglio acciughe sotto sale pratica di un bel cristeri di pulizia e l'Atenia l'Atenia se ne andrà non più e dei miei morragie ti arregherà e l'Atenia l'Atenia se ne andrà sempre che avrai espuso anche la testa l'Atenia 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 l Mangia righe, marinate, aglio, acciughe e sottosale Praticati un bel clistere di pulizia E l'Atenia, l'Atenia se ne andrà Non più e dei miei emorragie ti arricchierà E l'Atenia, l'Atenia se ne andrà Sempre che avrai espulso anche la testa E spegni l'Atenia, e spegni l'Atenia E se vuoi star bene, e spegni l'Atenia E spegni l'Atenia E spegni l'Atenia E se vuoi star bene, e spegni l'Atenia E spegni l'Atenia E spegni l'Atenia E spegni l'Atenia Grazie a tutti